aaaah siamo ritornati ragazzi su Rayman Origi e lui è più gassoso di me non so cos'altro ma lui è più gassoso di me vai è successo guarda ora io ci sorride si rida molto simpaticamente e il Michael Jackson che c'è in me tutto dentro guarda il Michael Jackson no che c'è un po' tanto c'è quello con la corona si c'è un po' con la corona guarda questo è ninja e questo è quello con la corona bello il re il re c'è il re no aaaah 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 anche il dentino dobbiamo prendere Michael Jackson ok siamo nei ghiaccio oi buonasera oi buonasera oi buonasera oi buonasera buonasera abbiamo capito questo dentino ok no questo questo è nuovissimo è brutto aiuto no mio 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 Michael Jackson e questo l'abbiamo preso è come si affezione a questo dente guarda qui no mi ha fregato ok adesso passiamo dove ho messo questo bel dente passiamo qua frecciando nella neve quindi ho detto questo che mi ha ghiacciato che bello questo cazzo si chiama un momento qui sono i pimp perché c'è allora per vediamo fa in luna oooh metto su la strada ostardacci 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 Avrei avuto tutto Vremmerebbe di sì Posso uno spazionare in qualche modo Oh come se gli è andato Oh Vola, vola, vola Vandito, vandito Buonasera Eeeh Messico Messico Non c'è niente Messico E qui siamo nel Messico Bella Eeeh Che è sta ventola Ma da caga, va Guarda che Questa è una cazzo Spacca, spacca, spacca Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiii Quindi questo piuma nel campanile 2 sia la parte del cato o la parte del freddo? Uuuh la 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 Vabbè tra qua Uuuh la 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 Uuuh la la Uuuh la la Quelle qua Quelle qua si fa cosa? Questo è un piuma ovviamente nero Il... Un peperoncino Aia! Quella meno! Senta! Ti stai buttando sempre tu No! Aiuto! Ottimo! Staviamoli Staviamoli Uuuh Ma hai col gesso Vai E poi se l'avevo liberata Bello Che bello Ok andiamo qua Dove mi piace tantissimo Ovvio E questo è un piuma che c'è solo Lumo Lumo Ma che c'è qua? Ok Ah ma sono loro! Vabbè Aiaiai 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 Sì, è il giugio Siamo quasi Sì, è il giugio Oggi mi sono meglio Comunque tutti rispondono anche Scusate Dicono anche elti Quindi fanno capire che ci facciamo Oh, che è sta roba Laser Uuuuh Queste, queste, queste sono le tue c'è Ehm Mamma 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 Attenzione Forchetto Ok, quante forchette sono? Grande Eh, esplicate Salvare Oddio L'abbiamo anche salvato, qua c'è un cattolo e muore Poi sapete che è stato, che è stato Dav Oh la la Va, 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 attento Oh, questo mi piace eh Sì, sì Ecco, va Sì, sì Sì, sì E poi l'ho più importante Aspetta, aspetta Andiamo avanti Uuuuh, chi è qua? Faccio il ninja Perché c'è la calzone tutta messa così? Sì Eh Sì 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 Ho la la Ho la la Oh 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 Aspetta Tu c'è una mega Tutta Oh la la Porca Che maestro delle monete Sì Sì Questa roba No, sta cadendo tutto Che succede? Quindi lava Ebbe rimasto sconvolto Ebbe rimasto sconvolto Che c'è una cosa? Ah Manetà Via Oh Quanta lava Oh, quanta lava Oh, quanta lava Ma chi c'è la lava in questo ambiente? Andai da quel paese Oh, 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 oh Scappiamo, scappiamo, scappiamo Non so perché c'è stata la lava in questo ambiente Oh, la la Fangolo Bestia E quelli come dobbiamo prendere? Quelli? Ah Bello Mi piace Ripariamo 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 Abbiamo anche tutto Abbiamo tutto E adesso Vabbiamo la sfida Attento Beh Anche ora È molto entusiastico È così È molto utile Per il mio termine di parole Guarda quanto non acquie l'umuro Guarda la differenza Guarda Guarda la differenza Guarda la differenza con il mago Ah ah, però ogni volta che non acquiamiamo un lume C'è falso caso Lettuce Quale lepton Ma lo ti ha fatto di più Orfe Si è arrampicato Pure la medaglia 386 lume Ico jetton Ico jetton No Ma chissà, ah forse è il progetto di personaggi Qua siamo chiesti, la è tono Aiuto, paura, 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 paura Allora, andiamo un po' Ma cosa, andiamo, andiamo Minuti Ok, via Ah, c'è una coppa, una bella coppa Ecca, di giù Ok, sia tempo un po' più difficile qua, lo dico Oh Aiaiaiai 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 Aiaiai, mi sa che ce la spunto indietro E comunque è anche molto gustosa Guarda quante belle cose Una suocera, una mamma O una zia particolarmente solette Che al ritorno dopo una giornata stancante Aiaiaiai Aiaiaiai Aiaiai Aiaiaiai Aiaiai non capisco no 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 vai adio cristo andiamo akeeeegh yammah un cam guardiero un cam guardiero un cam guardiero un cam guardiero Uff! IA! SIIIIIII! PAM 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 PAM! PAM PIN PIN PAM! Ma dove l'ho fatta? Mmmmm... VECCHIO! Te droghi un pazzo! e ci vuoi passare in grado di tutti sono nove ci vuoi anche ballare ciao a tutti